io quello piccolino non lo vedo che fine ha fatto? sarà sotto? c'è solo il pulcino di papagallo quell'altro dov'è? non è che vi lo siete mangiati? mamma pappagallina dov'è quell'altro pulcino? non si vede mi dispiace per lui non ce l'ha fatta è morto come sto vicino con i papagalli niente da fare è stato schiacciato schiacciato non mi sembra tanto buono non si muove più peccato e quando casca un dal nido è un casino difficile salvarli abbiamo provato peccato 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 peccato